Passare uno che va a prendere i suoi soldi dal suo conto corrente è da Unione Sovietica, da Venezuela, da quarto mondo, secondo me è da scemi, perché uno va a prendere i suoi soldi nella sua banca e ci fa quello che vuole, senza doverci pagare delle tasse perché sono già stati tassati.